Alba la presero in 2000, il 10 ottobre, e la persero in 200, il 2 novembre dell'anno 1944. Ai primi d'ottobre, il presidio repubblicano, sentendosi mancare il fiato per la stretta che gli davano i partigiani dalle colline, non dormevano da settimane, tutte le notti quelli scendevano a far bordello con le armi, erano esauriti gli stessi borghesi che pure non lasciavano più letto. Il presidio fece dire dai preti ai partigiani che sgomberava, solo che i partigiani gli garantissero l'incolumità dell'esodo. I partigiani garantirono e la mattina del 10 ottobre il presidio sgomberò. I repubblicani passarono il fiume Tanaro con armi e bagagli, guardando indietro se i partigiani subentranti non li seguivano un po' troppo d'appresso e qualcuno, senza parere, faceva corsettine avanti ai camerati per modo che se da dietro si sparava un colpo a tradimento non fosse subito la sua schiena ad incassarlo. Quando poi furono sull'altra sponda e su questa di loro non rimase che polvere ricadente, allora si fermarono e voltarono tutti e in direzione della libera città di Alba urlarono venduti, bastardi, traditori, ritorneremo e vi impiccheremo tutti. Poi dalla città furono visti correre a cerchio verso un sol punto, era la truppa che si accalcava a consolare i suoi ufficiali che piangevano e mugolavano che si sentivano morire dalla vergogna e quando gli parve che fossero consolati abbastanza tornarono a rivolgersi alla città e a gridare venduti, bastardi eccetera, ma stavolta un po' più sostanziosamente perché non erano tutti improperi quelli che mandavano, c'erano anche mortaiate che riuscirono a dare in seguito un bel profitto ai conciatetti delle città. I partigiani si cacciarono in porte e portoni, i borghesi ruzzolarono in cantina, un paio di squadre corse agli argini da dove aprì un fuoco di mitraglia che ammazzò una vacca al pascolo sull'altra riva e fece aree ai repubblicani che però marciarono via di miglior passo. Allora qualcuno si attaccò alla fune del campanone della cattedrale, altri alle corde delle campane, delle altre otto chiese di alba e sembrò che sulla città piovesse scheggioni di bronzo. La gente ferma o che camminasse teneva la testa rientrata nelle spalle e aveva la faccia degli ubriachi o quella di chi si aspetta il solletico in qualche parte, così la gente pressata contro i muri di via maestra vide passare i partigiani delle langhe. Non che non avesse visti mai, al tempo che in alba era di guarnigione il secondo reggimento cacciatori degli appennini e che questi tornavano dall'aver rastrellato una porzione di langa, ce n'era sempre da vedere uno o due, con le mani legate, col fil di ferro, il muso macellato, ma erano solo uno o due, mentre ora c'erano tutti, come credere che ce ne fossero altri ancora, e nella miglior forma fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per cento carnevali. Fece un'impressione senza pari quel partigiano semplice che passò rivestito dell'uniforme di gala di colonnello d'artiglieria con gli alamari neri, le bande gialle e intorno alla vita il cinturone rosso-nero dei pompieri col grosso gancio. Sfilarono i badogliani con sulle spalle il fazzoletto azzurro e i garibaldini col fazzoletto rosso e tutti o quasi portavano ricamato sul fazzoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti, lesse nomi romantici e formidabili che andavano da Rolando a Dinamite. Cogli uomini sfilarono le partigiane in abiti maschili e qui qualcuno tra la gente cominciò a mormorare ai povera Italia perché queste ragazze avevano delle facce e un'andatura che i cittadini presero tutti a strizzare l'occhio. I comandanti, che su questo punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane restassero assolutamente sulle colline ma quelle li avevano mandati a farsi fottere e si erano scaraventate in città. Grazie. Grazie.